Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dell'Ulissicraft Allora oggi devo fare un paio di cosette Però iniziamo facendoci che cosa Un... vediamo un po' dove sta Un strap un plus che si fa in questo modo Tanta cactus Oh mio dio Ehm... Glass Redstone e altro Va bene Vado a recuperare il suo necessario E ci vediamo subito subito Appena ho pronto tutto quanto Arriva ragazzi Ragazzi rieccomi Allora ho trovato un bel po' di glass Cioè tipo l'ho fatto il glass Non è un problema Nemmeno con la project Io ho semplicemente messo quei due hopper lì Le vedete Sì che le vedete Con dentro la cobblestone e bam Tanta roba Nel frattempo ho preso un po' di etrogine e ossigeno Specialmente così facciamo un po' d'acqua E perché l'acqua voi direte Ci serve peraltro ragazzi Allora mi serviranno un po' di canne da zucchero E cos'altro Ho fatto una... Una feather Ok una feather Perché comunque sta prendendo il nitrogeno Che ne serve Ok Oltre a questo Veniamoci anche due sugar cane Perfetto Visto che è uguale a zucchero Vede proprio zucchero Perfetto Rimacciamo in questo modo Ora quella che ci dà sucrose E idrogeno e ossigeno E li prendiamo Perché ci serve tutto quanto Ci serve adesso Ok Sarà bello lungo Perché tipo è H11 Se non sbaglio Qualcosa del genere insomma E allora vediamo un po' Come si fa Come si fa tranquillamente Chiamo qua Cactus Ok Cactus Eccolo qui Ok questo qua Lo farei il mescaline Ok H11 No C11 H17 E ok Nitrogeno Così in questo modo Quanti me ne servono Quanti me ne servono di questi N o 3 Quanti me ne servono di N o 3 C'è un po' Ah N o 3 Ah solo uno Bostanzialmente ok Allora Devo fare in questo modo a proposito Facciamo così Bam feather Acqua E ci ha dato anche Nitrogeno Perfetto Ok Allora ci serve N O 3 Ok Nitrato di ossigeno Dovebbe essere Oh penso di si E Devo fare che cosa Ehm No doveva essere L'ossido di nitrato Forse No lo so Nitrato Mmm No deve essere nitrato Nitrato di ossigeno Dovebbe essere Vabbè Ok Lasciatevi stare che sono Sono messo male In termini di chimica Ok E bam Qua facciamo questa roba Che non ci serve Giustamente perché devo fare Un'altra cosa Devo fare Questo Più Ehm C11 13 L'altro giusto C11 Ehm C11 H17 Ok H17 Facciamo subito E Ok Perfetto Ecco qua la mescalina Che non so nemmeno Che diamine Di nome Abbi in italiano Sicuramente E non ci interessa Quindi bam Così Oh Così Ah ok Water proprio di Ehi 5 water La madonna E mi serviranno Un bel po' di water Aspettate allora H2O H2O Ok Un bel po' di acqua Adesso Perfetto Quindi 5 5 5 E 5 Come avete Ehm I cactus Fatti per mettere l'acqua Quindi è per quello Che usiamo l'acqua Qui Ok Eccolo qui Il nostro bel cactus Su me ne siamo No adesso 80 80 Bitches 80 Ok Allora c'è in questo modo Prendiamone 64 E altre 64 Perfetto Questo dobbiamo che buttare Ok Mi servirà un bel po' di vetro Tipo 500 Glass Ok Tipo 200 Dovrò lasciare Prendiamone un po' di più Ottimo Poi mi servirà che cosa Ne ho detto Pump Pump Allora Questa ce l'abbiamo 64 48 E 16 Quindi 16 di questi Quindi in questo caso Sono la metà della metà Ok 64 di questi 48 di questi Quindi 12 E 16 E 16 Perfetto Ok in questo modo Ok da la metà di necessario Diamo energia adesso Tranquillamente Bam Pronto per funzionare Tutto quanto Ok Vai Putta tutto Ok Pump Pronta per essere Fabbricata Ok Infatti Poi che fabbrica La pump Ehm Voglio farvi vedere Che ho già qui sotto Quanto Qui E ora Mi mostra Anche il fatto Che abbiamo Un bel po' di Queste rubber sapling Yeah Ehm Un'altra cosa Ehm Ho Ehm Sì ho fatto Craftsato quelle altre due Ma quelle le ho fatte off camera Comunque Diciamo è normale E Ehm Cos'altro devo farvi vedere Non me lo ricordo ragazzi Sapete Ehm Ah giusto Il fatto che Il nostro query Sta continuando Sta facendo un botto di roba Un botto davvero E sta funzionando Abbastanza molto bene Stavo pensando di fare qualche cosa Ehm Di figo Delle altre mod Che abbiamo Tra cui anche le extra utilities Per quanto riguarda i generatori Di energia Però Una cosa che devo fare Sicuramente è farmi Un impianto Di Ehm Tank Ok Vuol dire Te l'avevo lì Se usa la Usa l'applied Metti l'altra mod Quella lì Come si chiama la Non mi ricordo il nome Comunque L'applied ha un addon Che gli permette Di fare vari liquidi dentro Che è molto carino Però Trovo inutile Perché sostanzialmente Io voglio vedere in Big tank OP E Visto che qualcuno Di nostra conoscenza Ha detto Il ferro fa schifo È brutto Non faremo il ferro Il tank in ferro Come abbiamo già fatto Non faremo il tank In Ben detto Steel Ci sono vari modi di fare lo steel Noi utilizzeremo Uno dei tanti Vedremo un attimo Quale che abbiamo Alprimato Faccio una lana Anche se non abbiamo problemi Tanti secondi Ok E poi cosa devo fare Oggi se abbiamo un bel po' di patate Possiamo metterla a cuocere Usare per l'altro Per fare qualcosa di bello Vediamo un attimo Con le patate Che si può fare Potato Potato Tipo abbiamo mille patate Ragazzi Cosa ti stare Ok Potato Vediamo un po' che si può fare La Chicken Potai Vabbè Anche vegetable soup Eh Si potrebbe fare anche questa Sinceramente Però non ho i funghi Vabbè Con tante belle Suppe Bellissime Carinissime Ok Allora Perché abbiamo fatto questa Pump Plus Voi direte Costanzialmente a me non serve Una pump Cioè Inutile Oh Cristo Guardate che Do one shot Guardate che bello Quando ho shotato la gente Sostanzialmente per me è inutile C'avete ragione ragazzi È normale Allora E' bello di questo Abstandialmente Come vedete Il querni Quando spacca le cose Ci fa uscire anche Un bel po' di acqua E l'acqua lì Crea molto lag Per poter risolvere questo problema Molto semplicemente Poi vai Non è lag mio È lag a server Per poter risolvere questo problema Sostanzialmente mettiamo questa pump qui In questo modo E in teoria Vediamo un attimo Ok Dovrebbe Non mi ricordo Come si attiva Aspettate un secondo Ehm Vediamo un po' Com'è che si attivava Forse si metteva accanto Dovrebbe in teoria Levare Tutta l'acqua Di lì Infatti si vedete Ragazzi la sta levando Guarda Lag Lag eccessivo Dovrebbe iniziare a scendere Il livello dell'acqua Sta scendendo Il livello dell'acqua Vedete Sta facendo a strati Sta facendo Oddio Sorry per il lag E mi creerà che cosa ragazzi Per poter risolvere questo problema Quelle piccole cose Guardate lì Sono semplicemente queste pipe Che poi vabbè non si possono Craftare queste qua Che fermano i flussi d'acqua Che vengono creati Per il resto Il nostro piccolo pump Le verrà tutto I liquidi possibili Brutali Che ci danno problemi Quindi Wow The fuck Non so quanti minuti siamo Però mi sa che abbiamo raggiunto Già un buon numero Diamo un attimo Cosa riusciamo a fare Penso alla balestra Sì penso alla balestra Quindi datemi qualche minuto Che arrivo subito Ok ragazzi Sto mettendo un attimo A macerare questa roba E anche l'artite Perché ci servirà Per un paio di cosette Sinceramente Ovvero la creazione Di manilium Precisamente di manilium Ingot Che però vanno comunque Messi dentro la fornace Ora 12 probabilmente Non basteranno Manco se mi paghi Però io direi Iniziamo a cuocerli Dentro la fornace E vediamo un attimo Come si sta Ma tutto il resto Bisogna fare anche Non solo la cosa normale Ma bisogna fare anche Il resto Ovvero Anche Le frecce E io direi Iniziamo a fare Quelle normali Per un momento Quindi facciamo un paio Di cast Ok Non questi cast Più che cast Mi servirebbero magari Tinker Ok Vediamo un po' Come si chiamano Vediamo perché Io ho una memoria Di merda Sicuramente Il pattern Ecco si Ok Pattern Ne abbiamo 4 Perfetto Dove avere Il pattern creator No questo è il part builder Mi serve l'altro cosa Il pattern Pattern Non pattern chest Tinker Stensing table Ok Stensing table Che dovremmo avere Eccolo qua Perfetto Eccolo qua Mettiamolo Qua Accanto Devo proprio di si Perfetto Devo farci Le pattern Ok Allora ci servirebbe Che cosa Per fare la balestra Cosa ci serve Vediamo un po' Balestra Ok Questo Questa Cordina E quest'altra roba Quindi wow Allora Cordina Cos'è Boosting Ok String Enchanted fabric Flame string Oh figo Poi c'è questo Ci serve Questo si fa In che modo Nessuno Non ci dice niente Ok Material costo qualsiasi Questo qua Adesso pure La Body Ok body E cos'altro mi serve Poi per la balestra Ok quello grande Perfetto Mi servirà anche Uno di questo Ovvero un Tog to rod Allora Adesso vediamo un po' 3 5 4 3 Allora 3 5 4 4 9 E 3 12 Ok 12 Dovremmo farci Sinceramente Abbiamo già abbastanza materiali Poter fare tutto quanto Ottimo Mi servirà del gold Mi servirà un paio di gold Tipo 6 8 Sì mi servono 8 di questi No poi già 6 Mi servono Ok E adesso con un paio di string Dovremmo già avere Possiamo farci per esempio Questa cosa Abbiamo dei flame string Aspettate Flame Oh Ne abbiamo 3 Quanti mi usi 3 Perfetto Wow Andiamo All'età qua Part builder Possiamo farci Uh Draw speed 1.1 Durability 1.2 Arrow speed 1.2 Nice Mi piace una cosa Perfetto E Ok Questo è andato Perfetto Facciamoci un paio di altre cosette Ragazzi ci vediamo subito sub Appena posso far tutto quanto Arrivo Ok ragazzi Guardate che figata Allora possiamo farci adesso così Bam 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 E Dove diamine No Ehi Ehi l'ho presa What Ah no Ce l'ho Ce l'ho qua Scusi Sorry ragazzi Sbagliato Ok Questa qua va qui sopra Questo va qui E questo va qui Bam Mamma Manilium crossbow Ok Ora non spara frecce Perché ho bisogno di fare le frecce Guardate che bello C'è tipo una cosa che Si Ehm Aumenta E devo farmi però le frecce 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 Che sono queste Si fanno Sto coso Ehm Arrow red Two rod Ok Two rod probabilmente dovrò farlo tipo In un altro modo Però ora li faccio Ora li faccio Vedo di fare queste robe Il meccanismo è sempre lo stesso Quindi mi raccomando Fatele sempre in Prima In Cobblestone Oh Ehm Ah Cobblestone Oh 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 Wood E poi potete Craftarli normalmente Vedete un attimo Quale riesco a fare E arrivo subitissimo Ok ragazzi Per il momento direi Facciamola così Facciamo in ossidiana Ok Poi mi servirà Ehm Fare questo in feather E un bastoncino Two rod Vabbè ce l'abbiamo Two rod penso Si Ok Wood and Two rod Perfetto Feather Eccola qui Ok E poi vanno aumentate Vanno migliorate Tutto il resto Però poi quello lo faremo Però in un momento Cioè continuiamo di fare in questo modo Ok Possiamo craftare le frecce Andando di qui Perfetto Questo Più questo Più questo Bah abbiamo solo nove frecce Dovremmo farne altre tipo Per forza E Ok Possiamo spararle Tipo adesso Guardate Beh Non vanno bene Shift for stats E Bene Non so come funziona Siciamente Presumo Ah forse devo metterle così Tipo Non ho idea se devo fare Tipo lo stesso modo Oppure no Mi sa che devo fare Devo fare i manilion Per forza Come si aspettava Va bene allora Facciamo così Le facciamo nel prossimo episodio Nel frattempo Cioè citiamo questo arco Che è molto carino È bello È carino Sì è bello È bello E ci vediamo nel prossimo video Questo dovrebbe bruciare adesso forse Non lo so Nah Però vabbè Buono comunque Ciao ragazzi